Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, rieccoci insieme su Motorsport Manager per la fine della seconda stagione Allora, ce li siamo classificati bene durante l'arco della seconda stagione Quarto posto per quanto riguarda le scuderie, quarto posto in piloti e quattordicesimo da parte di Edda Prossimo obiettivo nel corso della seconda stagione, puntare più in alto ovviamente Farci le ossa e sperare di riuscire a arrivare anche qui, non dico quarti ma anche qualcosina in più magari Per fare questo ho adottato una tattica un po' di puntare sulle finanze Cioè avere tanti soldi da spendere e da investire per la macchina l'anno prossimo Quindi ho risparmiato quest'anno visto che ero appena prodato e non potevo fare grossi risultati Vediamo se pagherà questa mia strategia Allora, facendomi un po' di calcoli, noi abbiamo 10 milioni Presumibilmente il presidente, se guardiamo le finanze, ce ne dovrebbe dare altri 20 più o meno E poi ci sono altri 10 milioni circa che vengono dati per via della macchina Forse pure di più, intorno ai 13 milioni ci dovrebbe dare visto che abbiamo messo da parte una bella cifretta Quindi super giù dovremmo arrivare intorno ai 40 milioni più o meno Sì, più o meno E detto ciò, prima di incominciare a far passare il tempo vorrei iniziare la costruzione di qualcos'altro Visto che ci arriveranno comunque tanti soldi E le strutture che avevo in mente, oltre al centro visite che lo sblocchiamo fra poco Avevo in mente il centro per lo staff Che ci costa 5 milioni e 7 Che ci migliora, diciamo, le abilità dei meccanici, dell'ingegnere più velocemente E migliora abilità come la forma fisica e la concentrazione per i nostri piloti Poi un altro edificio che mi attirava era il centro ricerca talenti Questo perché abbiamo ricercato praticamente tutti i ragazzi interessanti fino ai 30 anni Quindi se ci dà l'opportunità di trovare un pilota ancora migliore Che non possiamo vedere perché non abbiamo ricercato il centro talenti Ben venga Poi c'era una questione riguardante i contratti Che diversi sono in scadenza E passiamo prima ai piloti C'era quello di Edda che era in scadenza Visto che lei è quella che mi voglio portare in avanti sicuramente Rinnoviamole il contratto Allora Per lei come primo pilota Gli diamo un 279 mila Vediamo se accetta E' un pochettino di più rispetto all'anno scorso Vabbè anche migliorata in statistiche quindi ci sta Vediamo se accetta così Se no aumenterò Non mi farò problemi Quello poco mi assicuro E poi c'era Per quanto riguarda lo staff Tutte e tre Sia l'ingegnere sia i meccanici Da rinnovare il contratto Analizziamo un po' la situazione Io ho controllato il mercato Prima di avviare la registrazione E i prezzi sono allucinanti Cioè dovrei spendere veramente tanto Per trovare un Sia un meccanico Sia un ingegnere di talento Visto che comunque sia Ce li dobbiamo tenere un'altra stagione In Diciamo In questa modalità Supercoppa Asiatica Io non voglio investire in questa stagione Diciamo nel reparto meccanico Perché non mi ha dato i problemi Ora come ora Magari quando approdiamo Nella categoria superiore Spenderò di più Ma Per adesso Teniamoci quelli che abbiamo Li paghiamo un po' di più Perché sono saliti Diciamo di prezzo Di abilità Ok Vuoi un contratto lungo Te lo do Tanto lei arriverà a 4 stelle Certo Cazzarola Forse col centro dello staff Ci arriva un po' più velocemente Che migliora Di più Rinnoviamo anche a lei Vediamo un po' Lei Vediamo se con 27.000 Accetta Non so se accetta Io le butto lì le cifre Più o meno Lui mi sa che si è alzato Vè Perché avevo visto i 4 stelle Tutti sui 100.000 E infatti Più di 100.000 Cioè Visto che è buono lui Io gli sparo un 140.000 Perché ho visto tutti 4 stelle Sopra i 100 150.000 Quindi Diamogli un po' di più Così ce lo teniamo Contratto lungo Ti diamo Visto che ti voglio preservare E il resto Va da sé Che C'è da fare Solo Far passare il tempo Ci saranno i test Prestagionali Ah no I test prestagionali Dopo I premi Allora Vediamo un po' I premi 26.500.000 E' più di quanto Mi ricordassi O mi aspettassi Io mi aspettavo Intorno ai 22 23 Ok Non siamo stati nominati Manager Della stagione La Kruger Poi non ha fatto Nemmeno Grossi risultati Era arrivata Sesta Se non vado errato L'anno scorso No forse Sì Sesta Così A caso Cioè noi avevamo detto Massimo Cioè posizionamento Sessi Siamo arrivati Quarti Però Pure piazzandoci bene Perché guardate i punti Quindi Neanche a cavolo Con un punto sopra E niente Non ci ha dato Nessun premio Vabbè Andiamo a vedere altri premio Il pilota della stagione Laura Ingledion Che non si è neanche Ingegnata Per arrivare Fra i primi Cioè Quanta è arrivata? Settima 22 punti Queste cose Non le ho mai capite Cioè Potevo capire L'anno scorso Che siamo arrivati I primi In campionato E primi In Diciamo In campionato Scuderia E ci ha dato A tutte e due Il premio Questa stagione Non si capisce Comunque Vediamo un po' Ah Le regole sono cambiate Eliminati i punti bonus Per il pilota In pole position Ottimo Visto che noi Non siamo Il team Di punta Allora 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 La Chariot È stata data L'opportunità Di ricevere Una promozione In campionato mondiale Ma L'offerta È stata rifiutata Quindi è rimasta In campionato Asiatico La McNeil Rimarrà Nell'attuale Campionato mondiale Quindi non cambia niente Però Nel campionato europeo Esce vittoriosa La Garuda Che ha rifiutato L'offerta di promozione Ciò significa Che la Ruiz Rimarrà nello stesso campionato Quindi non è cambiato niente Nessuno è andato avanti Nessuno è retrocesso Va bene Ok Forse perché Non erano Abbastanza pronti Qui lo sponsor Aspettiamo La terza offerta Qui mettiamo A ricercare Altre persone Anche se Quando costruiremo Il centro Lo staff Ci arriverà Gente Piloti Ah Edda Accettato Un po' Constizza Il contratto Però Glielo facciamo Firmare Vediamo anche Gli altri Se accettano Ok Hanno accettato Tutti e tre Perfetto A me mi ha Di lusso Un po' Scocciati Per Mi sa Per lo stipendio Che gli ho dato Da fame Però a me Mi interessa poco Io guardo Tutto Anche Il centesimo Guarda Pur di risparmiare Di portare In auge La scuderia Si fa Questo e altro Allora Dobbiamo decidere Un po' Quello che saranno I fornitori Per la nostra auto Quindi Tutti i pezzi Per la monoposto Mi sta venendo Pure il mal di gola Progettiamo La macchina Altri Ah io mi aspettavo 13 milioni No Mi aspettavo Un pelino meno Quindi Anche qui Siamo stati fortunati C'è andata di lusso 42 milioni Allora Vediamo un po' Partiamo dai freni Sceglierei Questi da 3 Che da 6 Costano il doppio Però i miglioramenti Sono minimi Impercettibili Anzi In consumo gomme Peggioro pure Quindi mettiamo 3 milioni Allora Poi Fornitore materiali Il miglioramento C'è Assolutamente Scegliamo il più forte 11 milioni Voglio avere la macchina Al meglio 11 milioni Sono tanti Però è anche vero Che la macchina No vabbè Mettiamo 11 milioni Spendiamoli Ne abbiamo parecchi I soldi Quindi Investiamoli Allora Qui Vediamo un po' Vediamo un po' Io sceglierei Questo da 3 milioni E mezzo Scegliamo questo Da 3 milioni E mezzo Motori Che è il più importante Allora C'è questo Che ci da Poco e niente Questo che mi sembra Buono Più 10 Di valore Nella media Nella media Va bene Poi c'è questo Che da un po' Di più E da un modificatore Un po' Più alto Però Qua sono 800 mila In più Io prenderei Questo Però Consumo carburante C'è un po' Meno Però 800 mila Per migliorabilità In più E un modificatore Di più 2 Non è male Prendiamo questo Da 9 milioni 8 Spendiamo la bellezza Di 27 milioni Però abbiamo Una macchina Veramente forte Cioè abbiamo Un potenziamento Al 4 Anzi 2 al 4 E 2 al 3 Praticamente 27 milioni Spesi Mi sembra Una buona auto Abbiamo 3 stelle Quasi piene In migliorabilità In consumo Come 2 stelle E mezzo In consumo Carburante Temperatura Ottimale Come Rimaniamo Con 15 milioni Va bene Qui aspettiamo Lo sponsor Facciamo passare Un po' Di tempo Arrivato All'offerta Vediamo un po' Lo sponsor Prendiamo Questo Da 100 mila Talenti Ne abbiamo Scoperti Altri Vediamo Un po' Questi due Da 29 anni Dilemma Un milione E mezzo Migliorabilità Più 1 Vediamo Un po' Abbiamo Migliorabilità 3 Arriva a 4 Va bene Ci sta Lo facciamo Dove sta Accettiamo Scusate Ho visto Non so se ho letto male Dei graph Che No Forse ho letto male Mi sembrava che Dei graph Avesse lasciato La cosa No Ruiz Motorsport Vediamo i top Piloti Sono tutti presi La più Scarsa È questa qui Che comunque Ha 2 stelle E mezzo Quindi Non è neanche Lontanamente Ingaggiabile Continiamo Abbiamo scelto Allora Se ci capita La scelta Lì da 2 milioni E mezzo La rifiuto Però Le altre Da 1 milione E mezzo Le posso Tranquillamente Fare Perché mi voglio Tenere un po' Di soldi Per quanto Riguarda La L'arco Della stagione Perché Mettendo Tutto su Budget Alto Dell'anno Prossimo Come sto facendo Adesso Mi voglio Concentrare Ok Nei pezzi Quindi Ci serve Moneta Ok Vediamo un po' Qui Com'è la situazione No Abbiamo sbloccato Oh C'è un ventenne Che abbiamo sbloccato Mettiamolo In ricerca Togliamo Intanto Questo qui Vabbè Sono già in ricerca Aspettiamo Continuiamo Continuiamo Intanto qui Che è successo Ancora Rapporti vari Che poi Io Off camera Me li leggo Piano piano Quando sto in Con voi In registrazione No Edda guadagna Il tratto Campionessa Costanza di endurance Grandissima Più due Costanza Ma grandissima Arriva otto Di costanza Ottimo Ottimo Ci conto Ci conto Su di lei La vedo già Come campionessa La butto lì La butto lì Allora Qui Si stanno Producendo Queste tre strutture Va benissimo Dovremmo creare Anche la livrea Breve Che è successo Dilemma Morale Di edda Meno 15 Commerciabilità Scuderia Più 15 Dai Commerciabilità Alta Mi serve Arriva dal 100% Adesso Vediamo Se si riesce A combinare Qualcosa Ecco La livrea C'è Io Potrà sembrare Strano Ma La livrea Me la tengo Così Mi piace Troppo Mi ha portato Pure abbastanza Fortuna Durante l'arco Della stagione Precedente Cioè abbiamo Fatto buoni Risultati Quindi Io me la Tengo Così Poi mi piace È la migliore Cioè Dal punto di vista Estetico È Quella che mi piace Il più Ok Continuiamo Che è successo Simulazione Un milione e mezzo Per consumo Delle gomme Più uno Io accetto Passiamo da 3 a 4 Per un milione e mezzo Mi va bene Questi sono tutti i soldi Che avevamo messo da parte Che li stiamo investendo Per la gara Diciamo Per la stagione Mi dispiace un po' Per il consumo gomme E la temperatura Ottimale gomme Scusate Consumo carburante Vabbè Carburante Non ci devo nemmeno Far caso Perché alla fine Possiamo riempirlo Come e quando vogliamo Ok Abbiamo scoperto Un sacco di persone Veramente tante Benissimo Avevo la lista Vuota Di persone Da ricercare Sono aggiunto Un bel po' Magari Fra questi C'è il giovane Che ci potrebbe Portare Tra un po' Di stagioni In formula 1 Mettiamo tutti questi Mettiamo fino a qua Dai Fino al 21N Test prestagionali Vediamo un po' Come si comporta La cosa Abbiamo completato anche L'altra cosa No Il centro ancora no Ok Vediamo i test prestagionali Che sono importanti Non mi aspetto Chissà che Perché la macchina Più o meno È quella Dell'anno scorso Rivisitata Un pochettino Però Qualcosina meglio No Vabbè La andremo a migliorare Col Corso delle gare Vediamo un po' Obiettivi della prossima stagione Direi un quarto posto Poi se andiamo meglio Ci sta bene Se faremo faville 12 e 18 Ma che stai a dire Faremo molto di più Ok Vediamo un po' Fra 6 giorni Completiamo il centro Per lo staff E fra 8 giorni Abbiamo la prima gara A Singapore Ah non ho messo Dio cane Non ho messo Questi qui A migliorare L'affidabilità Ecco il primo La prima cazzata Abbiamo perso giorni preziosi Per la migliorabilità Vedi se questo ci costa La prima gara Vabbè Non posso essere perfetto In tutto Dai Miglioriamo Un paio di giorni Questo Ok Ok abbiamo migliorato Qualcosina Mettiamo anche Allora Questo Questo 46 E 47 E creiamo Iniziamo a creare Un pezzo Allora io direi Di mettere il cambio Che ce l'abbiamo Pessimo Qui dice Vabbè Per la seconda gara Cos'è Buono C'è il cambio Dai Il cambio va bene Un milione Ci costa Gli diamo questo Da 20 Accelerazione Ok Ci costa Un milione Perfetto 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 Allora Per quanto riguarda La gara La gara Noi ce la vediamo Noi ce la vediamo Nel prossimo episodio Direi che abbiamo Analizzato tutto Quello che c'era Da analizzare Abbiamo costruito Abbiamo costruito Un bel po' Di roba La monoposta È andata Abbastanza bene Guardiamo un attimo La posta Al volo Poteva andare Un pochettino Meglio Però dai Sono abbastanza Soddisfatto Direi che Per questo è tutto Ci vediamo Al prossimo episodio Ciao